Ciao bimbi, benvenuti a un nuovo lavoretto creativo. Oggi vi mostrerò la nuova tecnica per colorare. Ci serviranno due pennelli, una punta fine e una punta grossa, tempera bianca e nera, una ciotolina con dell'acqua e un cartoncino marrone. Iniziamo prendendo il cartoncino marrone, il pennello a punta grossa e la tempera nera. Andremo a disegnare uno scenario invernale con degli alberi e la neve. Per fare gli alberi prendiamo la tempera nera, appucciamo leggermente la punta e facciamo delle strisce lunghe, in questo modo. Adesso lasciamo asciugare, dopodiché prendiamo il pennello a punta fine e la tempera bianca. Dovremmo fare un effetto schizzato, quindi ci servirà anche dell'acqua per diluire la tempera. Prendiamo un po' di colore, bagniamo il pennello. Adesso con le dita andiamo a fare degli schizzi. A presto. 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 Lasciamo asciugare ed ecco il risultato finale.